Ragazzi buongiorno, allora vi voglio raccontare un episodio che è accaduto ieri sera abbastanza vergognoso, di cui io mi dissocio completamente, tant'è che ripeto ero a ballare con i miei in discoteca in maniera molto tranquilla e Igor ha avuto la brillante idea di avvicinarsi con un'aria da un'aria da bulletto, insultandomi e nonostante io gli dicessi che non volevo rotture di coglioni e di andarsene, insomma, lui ha continuato tant'è che dopo che mi sono stato anche toccato in faccia è stato buttato fuori. Io mi dissocio completamente perché sono situazioni veramente brutte, che non ho mai, non mi sono mai permesso di fare una cosa del genere, non mi sono mai permesso di parlare male di nessuno.